vela signorino con la pochettino di gucci parete 24 gol e siamo a 20 partite not bad signor alanda aspetta e blavich ciao ragazzi qui per normal comics benvenuti alla 21esima giornata di serie a siamo a un alien stadium pienissimo luminosissimo perché c'è un bel sole contro l'atalanta vediamo dal pareggio fulesto contro l'empoli e quindi c'è bisogno di una ripresa da parte dei nostri anche perché si entra nel vivo della stagione mese prossimo si torna a giocare anche al centro league loro vedo che hanno passa l'icolo toman zapata hanno anche l'ex alvaro morata quindi aspettiamoci il gol da alvaro come suo solito duvalone inizia la partita forza juventus aiaia buona scesni che esce mi fai veramente in far più di volta che fai qualcosa io devo lanciare lunga quello ma specie di velo oh vai ancora madonna calunque pierino pierino è magico pierino è magico pierino appena picchiato il portiere aiaiai aiaiai dentro sceso meno male che non ha tirato questo sicuro era stato un grosso rischio per la juventus nooo era ovvio che segnasse alvaro morata si era ovvio però l'atalanta sta giocando bene e qui la difesa è assicurata si io lo fa pure il rigore ma prendersi un rosso a volte non è una buona opzione non lo so andiamo sotto contro l'atalanta beh contro di loro ci può anche stare non portare a casa i tre punti però cerchiamo di portarci ma sta partendo un po una crisi un attimo questa squadra e vabbè però loro stanno facendo veramente i fenomeni e forse calcio di rigore ok non è un attacco per fortuna abbiamo subito grazie al cielo fede valverde corri dentro culu mamma mia la para il portiere il culu purtroppo ultimamente sta riuscendo a fare buone cose ho visto gol nooo la para il portiere sulle au buona idea grabbio Dusan vola più alto di tutti Dusan porca troia ragazzi abbiamo già capito chi vincerà quest'anno il mongolino d'oro nooo nooo io tu non so come se ne sia uscito ma era fantastico fallo giocare si è un po' culu un po' culu Tomori ha superato 8 dimensi da avversari ha fatto tipo il turbo e vabbè noi abbiamo dei buoni giocatori però dobbiamo sfruttarli bene che cavolo però eh è lì via via sono sette difensori di loro no no perchè è così vicino a quell'altro c'è stato 2 km cazzo no che cazzo fai però stiamo vincendo a fare il mongolino d'oro oggi ragazzi oggi si sta aperte le qualificazioni di mongolino d'oro 2023 e questa partita lo sta vincendo ci stai sabotando per te io ti vedo che ci stai sabotando ci stiamo sabotando vediamo se il culu riesce a farmi una scattata come si deve culu 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 porca droga l'abbiamo presa nel culu vai vai oh madonna l'ha spostato di peso madonna dai occhio 3 contro 3 taci di fisico Pierino Pierino tante volte c'ha la magia c'ha la magia nel culu c'ha la magia c'è la bu a a a a e dai però 2 a 0 ancora morale c'è fallitusti abbiamo fatto schifo oggi tutti stiamo facendo niente cagare dai veramente cagare si ce ne stiamo rendendo conto grazie meccani è salito sempre stato 81 no no è l'80 è l'80 è l'80 è salito meccani raga abbiamo la soluzione a tutti i nostri problemi abbiamo la paracea ogni madre facciamo pure l'umbre dai tu usano e ma cazzo ho detto passa porca miseria ci stanno aprendo come una cozza spagnola dio santo ah però gli ho dato un ordine ho detto passa stavano la volta acqua alle aula sicuramente ci può che provare con il joystick vabbè su questo non ho dubbi però che diamine vabbè il terzo lo dovevamo fare era ovvio dovevo fare il terzo e quindi mi ci scelte la parabola a cinque secondi dalla fine una fatica in mane per arrivare ai primi siamo buttato tutto nel cesso nel tempo è finito ampiamente e voglia 2 0 ragazzi è andata male 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 dopo il pubbara infortunato ragazzo ha capito però che è successo qua che vuoi non voglio fare allenamenti non voglio nulla ah sei andato su lei va benissimo va bene ciao ciao ragazzo ciao ciao che ti usava per contratto pure per di maria vabbè tanto non possiamo fare niente eh Danilo mi sa che non è il caso di venderlo o meglio non so manco pochi i milioni che ci offrono però dobbiamo comunque andare a cercare una riserva di quadrato cioè siamo con diciamo con le pezze al culo con le pezze al culo siamo quarti 38 punti la roma è al primo a 43 comunque addios mamma mia no vabbè non ha giocato non ha giocato eh vabbè no vabbè è andato a giocare col Monza che penso sia tra le ultime 18 vediamo raga non è facile no non è facile nulla ci vediamo al prossimo episodio voi lasciate un like iscrivetevi se ancora avete fatto e alla prossima bella